salve come la va tutto bene bentornati bentornati amici miei buonasera buonasera oggi il devasto oggi la paura inebrirà i nostri cuori e ci porterà al di là al di là di quello che potrebbe essere un limite che non può essere che bello quando non ti vengono le parole bentornati bestie come state siete tantissimi come mai come mai così tanti andate via ragazzi ci tengo a precisare di attivare la fottuta campanella delle notifiche dato che streamlabs e dato che twitch non funziona e ogni tanto non vi dice quando siamo in live vergognatevi voi vergognatevi twitch vergognatevi tu la tua famiglia la tua mucca tutto ciò che hai è uno schifo vergognati ma sappi che noi siamo qui apposta bentornati bentornati amici miei che bello vedere la tua fantastica barba grazie vietnam gentilissimo nuova gif va bene imperius a me fa benissimo a che ora è la live ma fa era era all'incirca 3 4 ore fa adesso stiamo solo cazzeggiando tra amici quando inizierà il nuovo contest e live a breve forse settimana prossima lo annunciamo e il nuovo contest sarà per cyberpunk 2077 l'ultima opera perché sarà l'ultima ve lo dico io di cd project red chi l'è grazie mille scioni gentilissimo bestia rotuvalala se arrivo 200k punti canale mi spedissi a casa un pezzo di barba no assolutamente ma se voi altri peli te l'invio ma non della barba non ti dico quale perché sono un signora va bene mi sei mancato anche tu carmine ma so chi tu sia ma mi sei mancato l'ultima perché poi finirà il mondo no non per quello nit perché secondo me stanno stanno per me toppano con cyberpunk ragazzi io questo fortissimo presentimento che cyberpunk sarà una cacata non so ragazzi ho visto i gameplay ho visto l'ottimizzazione il fatto che gira che quello che hanno fatto vedere non è chissà che e gira su una 2080 ti perché sotto una scheda video più debole non riesce a reggerlo dovrà uscire su console e non ho idea di come cazzo sia possibile che esca su playstation 4 infatti poi ci sarà la conversione per 5 e xbox serie x vedo delle animazioni fatte col buco del culo vedo un gameplay normalissimo di un fps che la city project è la prima volta che affianca che approccia non lo so ragazzi mi pare proprio un progetto che secondo me sono andati un pelo oltre quello che quello che potrebbero e dovrebbero fare ossia un fottuto gdr in terza persona bello solido classico come on the witcher che è stato spettacolare sono bravi a fare quello non so se sono bravi ad usare ricordiamoci poi che la city project ragazzi sono piccolini e non è che sono 800 mila persone saranno manco una cinquantina ma vabbè per un gioco normalissimo per ora si mi sembra che a me è un gioco normalissimo non me ne frega io ci perderò la vita lo stesso su quel cazzo di gioco va bene bill amico mio poi vabbè sono gusti cyberpunk sarà il nuovo death stranding non è detto non è detto simo forse sì forse ho ragione io forse non hanno ragione gli altri fatto stacchio ragione io bestie si parte resident evil 7 via facciamolo partire sto cazzo di gioco ho provato a risolvere la questione del hdr che a voi non me ne deve fregare un cazzo perché non lo vedete dato che lo stream non permette la visione dell'hdr ma io invece ho una qualità pessima poi del gioco nel toto cioè vedo di merda vedo con delle luci sfasate l'altra volta voi vedevate arancione per colpa dell'hdr ma io stavolta ho sistemato e mi dovete spiegare perché non sono... ecco è fuggito niente a posto c'era l'immagine della real engine ragazzi della resident evil engine che è qualcosa di imbarazzante perché c'è l'immagine di una manina di una bimba la manina di una bimba però ha l'anulare questo è l'anulare non lo so il dito il dito che ti frega il dito che ti fotte in matrimonio che ce l'ha piccolo così che cosa cazzo rispetto agli altri c'è un ditino piccolo così che diavolo di problemi ha quella donna valerio grazie mille bestie valeria perdonami ha il metallo nelle vene mi stiaccia si parte continua yes e via che è? una via d'uscita dopo un violento scontro nel garage Ethan riesce a raggiungere il salone d'ingresso ma la porta è bloccata gli servirà molto più di una chiave gli servirà un coltello chiave scusate dite addio a scrubs dite addio a tutto ciò che riguarda ironia divertimento critica sociale perché adesso ragazzi il politically correct ci sta rovinando figa non vedete nulla voi figa non vedete un cazzo mi fa piacere io qualcosina vedo vedete ragazzi devo alzare un po' la luminosità se la devo alzare la alzo eh io vedo dai per otto mesi Tony porco due non riuscirò mai a scollarti i tg tv di dosso ho lo schermo praticamente nero buono arrivo audio schermo luminosità ecco la qua eh grazie al cazzo la molto meglio molto meglio anche per voi si conferma oh adesso si meglio ragazzi ditemelo in faccia quanti siamo una legione si vede meglio perfetto buono ragazzi allora dove eravamo rimasti con l'adorabile papà come l'audio l'audio posto anche quello allora abbiamo ah ho il coltello se colpi di pistola questo cos'è scultura di legno ah giusto giusto abbiamo trovato il ragno credo non ne ho idea non mi ricordo un cazzo abbiamo tre monete monete antiche io non so cosa servano cosa faccio ragazzi le metto via non ho idea ho paura che se le metto io poi mi possano servire o perché altro perché mi manca uno spazio e poi l'inventario è ormai stracolmo cartucce fucile e io non ho un fucile testa di un cane testa di cane bianca attenzione ma possiamo bilanciare lo yin e lo yang con testa di cane ah blu non nera attenzione ragazzi qui c'è del razzismo eh mia e tua va bene lo smetto andiamo avanti ma che bel posto pulito pare casa mia l'odore è tremendo esatto di qua si fa di sotto ah già qua ci collegavamo ci collegavamo l'altra casetta cos'è che dobbiamo scoprire in sta zona un cazzo allora qua abbiamo la stanza dello scheletro dello scheletro del dello scorpione secondo piano abbiamo scorpione scorpione serpente guardate che fa finta di capirci qualcosa me ne vado me ne passo per di qua fanculo fanculo alex salve lei razzisti perché non era nera tienile da parte che sono importantissime le monetine ah le metto vuoi che allora facciamo così le vado a mettere nella ma le tengo da parte nel senso le tengo in tasca non c'è una nonna portatile a cui darle le nonne hanno sempre il monetine ragazzi in tasca sali cretino oh ma che cazzo fai bravo ah ma mi paro con la barra spaziatrice ma è una stronzata ecco e com'è che si no lo sapevo io che la facevo la cagata ho sprecato la cura c'era il modo per vedo mi ricordo più i tasti a con tab posto metti via la chiave della macchina non servono ecco bravo quella ragione per ormai la la cosa l'abbiamo fatta voilà e no le monetine non mi ricordo no non nella cassa quando ti servono le porte le potrei prema lurido bentornato perché le persone orgasmano sempre è una questione di di apparenza di apparenza come l'orgasmo ragazzi non esiste l'orgasmo dovreste saperlo soprattutto non esiste l'orgasmo maschile diciamoci la verità ragazzi per noi cagare e venire è la stessa identica roba non c'è una differenza oh mio dio mi sa che io vengo quando cago dov'è che si sbuca di qua ah giusto giusto nonno babbo tutto bene ah ok si è chiuso qua scusate ragazzi c'ho il volume un po' bassino fatemelo alzare scusate lo so che sto passando tre ore nel menu mi sto rompendo i coglioni no ma ma no ma è le cuffie allora il volume basso eh no così però mi viene un infarto a posto quindi hai problemi di incontinenza mentre scopi? io non dico niente non ho io non non mi ha visto oh merda mi sa che dovrà passare di qua prima o poi ma è nudo come mai è nudo ah ma il muro si è ricreato? beh allora sì però vecchio io dovrei passare eh ehi cucù non hai proprio un cazzo da fare ora siamo solo isoletti? aspetta me a deciderlo bastardo cristo santo è più veloce del solito run baby hurry ma come cazzo corro? guarda jogging c'è un pazzo assassino che mi sta per uccidere io faccio jogging lui può passare per di qua no attenzione non lo scampo lo sai no mi sa che passa ragazzi eh oddio non ne ho idea può passare per la porta? passo attraverso la finestra c'è un camino qua da qualche parte dov'è Babbo Nachele? uh ah ecco cosa servo alle teste di cane allora via orco 2 dov'è? ma allora ma porca puttana però ti si tiene in forma l'amico micchia veloce dov'è la vecchia? c'era la vecchia qua da qualche parte oh spavento muoviti corri 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 ok devo 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 mettere giù la testa prima non me ne andrò di qua finché non avrò messo tutte e due le teste là morda 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 caputa però ah ma che cazzo di problemi hai? eh 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 vaffanculo corri ah sbiascica come gli anziani ah sono messo di merda ragazzi con la vita non lo so dio boia cosa è accaduto? scusate ok eh vabbè ma questo sfonda tutto ragazzi devo nascondermi devo nascondermi adesso ok 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 no che cazzo sbaglio sempre tasto ok ci siamo ragazzi con calma con calma ma hai blasfemato? no no non sono stato io Tony è stato il gioco ha detto figliolo ah butta la videocassetta e tu chi cazzo sei? va bene adesso la butto amico mio se lo vede arrivare dal lato è urla secondo me attenzione è nel corridoio ah ma ci sono delle freccette qua attenzione si davano alla pazza gioia considerando quanto malati sono probabilmente se le tiravano sulla schiena come i marines crionistv benvenuto bestia il metallo nelle vene ma ce la facciamo ad andare avanti o devo rimanere chiuso in questo loop di merda? vieni fuori vieni fuori ovunque ti trovi niente è diventato un gameplay del 2011 su youtube buono cartuccia per fucile ma io ho della polvere da sparo possibile che non possa farci un cazzo? non posso combinarla con non ne ho idea la videocassetta per farci uno sparagatti vediamo un po' se posso combinarlo con qualcosa cos'è sta affa si no 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 non posso giustamente non posso collegare devo trovare un bussolo probabilmente per poter fare la polvere da sparo mi serve un bussolo vuoto cioè per creare un non puoi sfogermi figliolo ma dov'è? lo sento ovunque ma non lo vedo oh no 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 bastardo corri dio dio ma che cazzo porca troia oh oddio spavento ma perchè così silenzioso? Non mi hai preso Non credo proprio Oddio Mi sa che c'ha ragione Che succede? Ma non prova nulla Fa male? Ride, ride Raga, è l'ultimo proiettile Lo spreco? No, non lo posso sprecare Mi potrebbe servire E beh, però che due coglioni Vivere così, eh Io ho avvisato Non prendermi per il culo Tranquillo, tranquillo Il culo E l'ultima cosa A cui vado a puntare Solitamente Entra veloce Entra veloce Entra veloce Cazzarola Oddio È veloce È troppo veloce Chiudi sta porta Eccola là No Ma scusa Ma perché mi vuole morto? Due secondi fa Mi amavano tutti Mi davano da mangiare Allora Non c'è nulla Che posso lanciarti Attenzione Attenzione Un uomo con un rastrello E un bagno Cosa accadrà mai? Mezzo nudo tra l'altro Niente Ho sprecato tutti i proiettili È colpa vostra Non so dove nascondermi ragazzi Mi trova? Is this la fine? Ah Sta sfondando tutte le porte Che c'è a corto di munizioni? Cazzo mi legge nel pensiero Ho capito ragazzi Cosa devo fare Ah veloce La cosa La cosa migliore Che posso fare In questo preciso istante È andare nella safe zone È l'unica È l'unica È l'unica soluzione Qui lui non conta un cazzo Veloce 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 E mo? Imbecile Ora Se salvo adesso Però la prendo nel culo Salviamo Non ho più munizioni ragazzi Siamo in 96 Attenzione Siamo quindi in 69 Lomao Sesso con un rastrello Polvere da sparo Più liquido giallo Uguali munizioni per la pistola Ah forse ce l'ho Forse qualcosina ce l'ho Liquido giallo Ce l'ho Polvere da sparo pure Yes baby Grande Quindi questo No No Sto per ribaltarti Questo Più questo No più questo Dieci proiettili Minchia Ma è tantissimo Ma qual è la logica Perché se io unisco Una flebo di piscio Con della polvere da sparo Si materializzano Dei proiettili in ceramica Non capisco In ceramica e metallo Non ne vedo il senso Vabbè E' inutile farsi queste domande Dal momento in cui Mi hanno mozzato una mano E me l'hanno riattaccata Con una pinzatrice Quindi E tutto funziona Perciò Dovrei evitare Certe domande Magia Al cinema Non è parato un cazzo Da MacGyver No no Assolutamente no Capirai che i dieci proiettili Sono molto pochi Ma ne ho appena sprecati Molti di più Quindi si Ma i proiettili Ragazzi Diciamoci la verità I proiettili In Resident Evil In tutti i Resident Evil Non servono a un cazzo Non è che servono in parte Ok Non servono proprio a un cazzo Salve Ssh 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 Eh Che sta Chiudi di porta di merda Ma va Porca troia Ah Figa ragazzi Ma non è possibile Come faccio ad andare avanti Se rimane lì quello Itan Un po' più lenta eh Che palle ragazzi Sono bloccato È un loop di merda questo Non mi può prendere qua? E se trovarti un Viet Cong Che ti esce dal pavimento Con una Con una Glog E ti spara alla caviglia Bellissimo Voglio un appartamento così Rushatela Ma Shark Grazie al cazzo Ma ci sto cercando Ci sto provando Ma è davanti alla porta Dove devo rushare Poi rushatela Dove cazzo rusho? Rusharsela ragazzi È soltanto È un'opzione Soltanto Per chi Già sa dove deve andare È come È come Forest Gump Altrimenti Corro così Senza un cazzo di motivo Grazie Kerbios gentilissima Guardalo È sempre sporco di merda Mi vede? No Dov'è il mio piccolo Ethan? Sono qui Stronzo Dovrei trovare un modo Per attirarlo di qua Ma loro si Si triggerano Con 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 il suono Ragazzi Se si triggerano Se si triggerano col suono Potrebbe essere una cosa intelligente Sparo un colpo Dall'altra parte Quello viene di qua Io passo dalla botola Avrà il pannolone stracolmo Buono O tiralo verso la safe Eh Ma non so se posso attirarlo Quello L'idea era quella Però non so se funziona Nasconditi nella stanza del fucile Ah Non è una cattiva idea Però devo prendere il fucile Prima Ci sarà l'animazione Sione Non so se durante le animazioni Sono immortale Eh ragazzi Si è incastrato qua il ciccio Posso fiutarti Non credo Sai Eh Studiamocela Secondo me sei un po' in trappola Buono No Non viene verso di te Probabilmente ragazzi Non riesci neanche a triggerarmi qua Perché sono nell'altra stanza Appena metto un piede Mi sgama Guardate Ecco Mi sta fissando Ecco Che cazzo avevo detto E' fatto malissimo L'intelligenza artificiale Sto gioco E' fatto di merda Vabbè a sto punto ragazzi Lo attiro di qua Faccio il solito giro Ciao papi Oh shit Cazzo però è veloce Quello è il problema Guardate che gioco bellissimo Guardate Non mi può toccare Sono un metro da lui E vediamo se mi Non mi può fare nulla Guardate Non è una meraviglia A questo gioco Sono vecchio figliolo Non riesci a battere un vecchio A quanto pare Sì Papà Non puoi toccarmi Porca Ma va fanculo Va Dai però ciccio Non ho tutto il giorno Senti Vieni Vieni Qui bello Che cazzo fa Oh Ma no Il palchè della nonna Velos Dai che non ho tutto il giorno Adesso va a destra Io vado davanti ragazzi Me la faccio quatta quatta E' bellissimo Questo Questo E' il puro horror Dove sei Perfetto Andiamo La pantera nera E' razzismo Non era nera Era rosa Vabbè Per me piace La pantera nera Pantera nera Non era quella lì di Cos'è che era Il mercante Il mercante Dai cazzo C'era Non mi ricordo più Cazzo Lo davano su Italia 1 Mercante in fiera Mercante in fiera La nonna è brutta Corri Ok a posto ragazzi Non mi ha più visto Non sa più dove sono Buono Ok Ora Andiamo nella nuova zona E cerchiamo di risolvere I misteri della nuova zona Il cane Le teste di cani Le ho già messe Ora devo cercare Ok lui è piano di sotto Adesso teoricamente qua Non può cicciare Da nulla Giusto? Lo scopo era uscire di qua Devo trovare un'altra testa di cane Non so quale testa di cane Ma ne devo trovare una Ho sentito uno strano suono Sto sentendo degli strani suoni Che ca... Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Ah volendo posso scendere Al piano di sotto Da qui eh Quella che cos'è? Che zona è quella? Ma non avevo zona? Oh Shit Ha già il garage Oh Cristo Ho fatto una stronzata No no Stai buono Oh Ahia porca Ahia porca Ah dai Ah dai Ah dai Ma che che Ah A fanculo Corri Corri Dio Che troie Ok Ho vinto Ho vinto E dietro di me? No no non è possibile Ok lì c'è il garage Cosa c'era il garage? Cosa c'era il garage ragazzi? Non mi ricordo Ah forse Ah lì devo mettere la statua lì È vero è vero Avevo trovato la statua del ragno Forse la posso mettere là Ok ok con calma ragazzi Non ho cure vero? Non ho cure Buono 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 Sono nella merda Sì più forte I micchi salve lei Dai dammi qualcosa Già Che è sta roba? Evelyn 2 maggio 2014 Che brutto tracollo Ok ho avuto Ok ragazzi È lì Non rompe il cazzo a nessuno Ora io ho trovato Questa qua La scultura di legno La scultura di legno teoricamente serve Per cui i meccanismi Dove si riflettono la luce Questo qua Esatto Io mi metto qua Mi piazzo qua Metto la scultura di legno Non posso? Perché non posso? Ah ecco perché non posso Perché è arrivato papà Grazie al cazzo che mi vedi Dio santo Senti facciamo una cosa Uccidimi Dai su Coraggio Grazie Gentilissimo Bravissimo Un altro colpo Eh Però Fetto orribile Non riesco a capire cosa lei abbia mai visto in te Ah neanche io papà Neanche io Sei morto Grazie Meno male che me l'hai detto Non l'avrei mai capito La statua non è lì Chissà dove va Come la statua non è lì Non è per lì Sono sicuro che quella No dai Questa statua deve per forza andare lì Una scultura dalla forma bizzarra fatta di legno Ma per forza deve andare lì la statua di legno ragazzi Sì sì è vero Cheat Brumotti Assolutamente Aia Aia È del piano di sopra caro Com'è del piano di sopra? Ma al piano di sopra non c'è un cazzo Che due coglioni sto gioco di merda Andiamo al piano di sopra Si vai lì? Allora devo andare lì o devo andare al piano di sopra? È bellissimo quando siete d'accordo e vi volete bene Buonasera Lilith bentornata Mi era parso di aver visto un topolino Allora il segreto è Vincere Guarda che faccio le finte Ok Eccolo là È sulla destra È buono? Perfetto C'è perfetto il cazzo C'è un assassino che sta cercando di uccidermi Veloce che mi sga... Ma dai Ma basta Ma è... Dove vai? Rincoglionito Sono di qua Scusate Tu non ti muovere da lì Va bene Oh mio Dio Tra 30 anni Gli uomini non si picchiano nemmeno con un fiore Wow Metallo nelle vene Vieni qui oh Dio Senti facciamo una roba Ehi Vaffanculo Come vaffanculo? Attenzione con le parole Sono un fiore delicato io Merda Cazzo 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 No Oh Oh Cosa devo fare? Un'aquila È incredibile E la posso fare Eccola qui Il problema è capire come cazzo girarla Sì più o meno viene fuori Ma non riesco Allora di qua A sto punto Buono Buono Ci siamo Ci siamo Eccola Si genera Si sta creando davanti a me Non riesco mai Sono dicapato io in queste cose Come cazzo devo fare? Ah basta fare a cazzo Puoi fare conferma Mi dovete spiegare Con quale meccanismo Di fotocellule E Ingranaggi Funziona questo affare Che l'ha costruita? Eh non lo so Buono Jumpscare? Oh merda Oh merda Ah Ah Sono così magro? No Ah Ho vinto Che sto schifo Sui muri Anche qua ragazzi Basta un cerino E prende fuoco Tutta la casa Comunque Dove merda sono? Scusami Ah La sala degli ospiti Adesso il cervo Si anima E mi incula Sei in safe È una safe Ah Buono Beh Ottimo Oh cura Ottimo Dentro il frigo Abbiamo Liquido giallo Si chiama semplicemente Liquido giallo Tu puoi anche chiuderti Psico 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 Psicostimolanti Scusatemi Non sono dislessico E che servono? A psico stimolare Una medicina Che acuisce temporaneamente i sensi Rendendo più facile Trovare gli oggetti Ah Ah Ok Quindi magari mi fa vedere Anche le cose rinchiuse Nella cassa That's right Ma come faccio a Posso equipaggiare il coltello? Si Erba Ottimo Perché no? Posso unire Se non sbaglio posso unire l'erba Alla cosa gialla Per fare Per fare una pozione Esatto Buono Si Facilo Boom Ne abbiamo due Buono Anche se mi servirebbero di più i proiettili In sto momento Ma Ma siamo in safe davvero? Scusatemi Se siamo in safe dovrebbe esserci un salvataggio qua Eccolo qua E qua che salverò Le troche Io sono davvero dislessico Anch'io sono davvero dislessico ragazzi Io non Non sono uno che fa finta Di essere ciò che Perché dovrei far finta di essere dislessico? So che c'è gente rincoglionita che lo fa sul web Io sono Fottutamente dislessico Non sto scherzando Mi ricordo Quando andava di moda Essere bipolari Su internet Tutti dicevano Eh Sono borderline No sei gay È diverso Hai un orientamento sessuale Differente dal mio Oh Attenzione Soluzione medica Ma sì Infiliamoci una soluzione medica Per aprire sta cassa No Mi pare che serve una chiave Cos'è che c'è scritto? F Marito e moglie in vacanza Il marito è stato un successo Lui è il numero 12 Sfortunatamente la moglie non andava bene Quindi ce ne siamo sbarazzati Ah però Ci ha visto bene 7 luglio Tre studentesse Tutte marcite Lucas è un idiota Concordo 13 agosto Un senza tetto Un senza tetto Mutato in tre giorni Lui è il numero 13 Buono Ah E abbiamo un bellissimo Una bellissima foto Di Non si legge Non si vede Non ci permette di capire Che cazzo è Sembra un disegno di un bambino Ma c'è scritto mia Non è un disegno di un bambino È mia I dettagli di gioco Però E non c'è nulla da prendere qua dentro? No Ok Va bene Così Toh un regalino per te Tieni Una cassa piena di vermi Piene di esche Anzi Qua cosa abbiamo? Potrebbe trattarsi di altre vittime No no Si chiamano semplicemente Textures lavate Però le ombre sono fatte bene Le ombre e le luci sono fatte bene A parte quando uso il L'HDR Che va tutto a puttane Non so per quale motivo Ma vabbè Forse deve Puttana bacca Che spavento Forse posso mandare via Le Le Questi vermi Perché pare ci sia qualcosa sotto O no Non capisco Magari si possono mandare via In qualche modo Si va a pesca Mangiali Il cervo è malvagio Serve del fuoco Sì esatto Ciao Amon Ciao Bistia Il cervo è il vero nemico Secondo me sì Allora abbiamo qua La porta del corvo Ah ha due teste Buono Uh ma chi c'è qua? È chiusa Sotto il cammino Non è che c'è un'altra Di quei Marchingegni No Ok E niente Allora proseguiamo Per di qua ragazzi Andiamo avanti Pensavo ci fosse Un salvataggio Però Sarebbe piaciuto Un salvataggio Salve Dio santo Salve Buongiorno Ma che Ah 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 No 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 Chiudi sta porta di me No 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 Come cazzo faccio a passare questo robo qua? No siete fuori Come faccio ragazzi? C'è Venom dietro la porta Ah io ti faccio prendere gli infarti Ma guarda No 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 Che cos'è quel coso? E che cazzo ne so io? Forse è senza tetto di prima L'abbiamo letto prima E come faccio ragazzi? Gli lancio i vermi? Cosa devo fare? Ma è qua? Salve Sei andato via? Sento degli orribili suoni Non c'è più Dove è andato? Dove è andato? Ah Mi sto cagando sotto Perché mi sembra Mi sembra un hotel brasiliano Che è sto suono? Ah sono io Ma che cazzo è? Ma non è normale Non è normale Far sto casino Gattonando su un parquet Ok ragazzi Devo Devo esplorare Prova a giocare Vaffanculo Oh la safe Grazie a Dio Grazie a cielo Ho vinto Yes Yes Boom baby Voilà Ah Mi sento proprio al sicuro Cara Courtney Quei bastardi mi stanno cercando Ma forse questa nota Può aiutarti a fuggire Per andare via di qui Devi trovare le sculture A forma di testa di cane Buono Ne ho vista una nella stanza della dissezione Nel seminterrato Stanza della dissezione Nel seminterrato Valla a prendere E la chiave per sfuggire da questo posto Buono Bene C'è qualcosa che non va in me Deve essere quella roba che mi hanno fatto mangiare Se proprio devo morire Lo farò lottando Sto per andare a prendere quel fucile Che ho visto nell'area ricreativa Area ricreativa Con fucili Così li farò pentire di quello che mi hanno fatto Scappa da questo posto Ti amo Courtney Tu ho persente Sente Travis Buono E niente È la fine Però A sto punto Mi vengo a pensare Se mi hanno dato Gli psicofarmaci Qui c'è da aprire Se mi hanno dato gli psicofarmaci Probabilmente mi servono in questo momento Magari l'assunzione di quest'ultimi Uh munizioni Yes L'assunzione di quest'ultimi Potrà in qualche modo aiutarmi a trovare Qualcosa Il microfono sta volando giù Fa attenzione quando scendi Come fa attenzione quando scendi PS Ha fallito Senza H Buono Non servono ad un cazzo Ottimo Tutte abbiamo una stanza di dissezione nel seminterrato Beh ecco io Ma questa qua non è la bambina che abbiamo visto prima No Tutte scuse per non uscire da sta cazzo di stanza Ne ho visto uno nella stanza di dissezione nel seminterrato Sta seminterrato Eccolo lì E andiamo E andiamo Merda 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 Non va bene per un cazzo Non va bene No No Con calma eh E' chiusa dall'altro lato Ma da dove arriva sta luce Ah da terra ok Buono Devo trovare un modo per aprire quell'affare Ho sempre paura che quella Che Venom Mi sbuchi dalle spalle Capito Ok Cicci fuori dalle pareti Ah Scusate Dio Sto sentendo suoni orribili Ma tanto è palese che mi devo spaventare adesso Ti devi spaventare Scusate Mi devo cagare sotto ragazzi E Eccola No Oddio 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 Panic shot comunque Ok Easy peasy E' fatta Ok 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 pezzo di merda Ah Ma allora Ho vinto Vaffanculo Pensavo chissà che Perfetto Arrivederci Non si rialza Suppongo di aver vinto Suppongo Beh mi sento molto più sicuro Senza sapere che le pistole li buttano giù Con due colpi in testa Dai Pensavo peggio Francamente Il problema è che Probabilmente ce ne saranno altri Salve Eglala Oh Deve morire Deve morire Oh 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 Puttana vacca Ok con calma Con calma Qua Ma c'è un cazzo Qua Lucas Ho preso quel tizio che continuava a scappare L'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra Così non ci fuggirà più Ma come? Tiralo fuori quando è il momento Sai come aprire l'inceneritore no? Ricorda 3 A E un'impronta della mano Fai come ti pare con la ragazza 3 A E un'impronta della mano Ah 3 A nel nome E un'impronta della mano Lara 2 A Impronta della mano William Facolo Allora ragazzi Se sbaglio Come in ogni residentivo Escono dei nemici Quindi non devo fare stranzate Polvere da sparo Buono 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 Vediamo se posso combinare qualcosa Sì Forse sì No Ah sì no Beh ho della polvere da sparo Ma No Il gran cazzo L'ho appena recuperata Già è un po' un deficiente Allora con calma 3 A O 2 A Cos'è che c'era scritto? 3 A E un'impronta della mano Cazzo vuol dire? E' un codice Beh Fin là ci arrivavo anch'io Ah la terza A forse 1 2 3 E un'impronta della mano? Ah no Craig Ah E allora qui Questa è la terza A Oddio Beh ho vinto Merda Merda Oddio Sento Ok Oh Ah no Ma aspetta un attimo Mi sa che Ho la sensazione che qualcosa sbucherà prima o poi Tamara Oh bene Tamara Ottimo nome 3 A Un'impronta della mano Qui ci sono 3 A Sono il numero 1 baby Ci so ancora fare Ma fa culo Ma fa culo No 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 Apri sta porta di merda Dio santo Ma ma Non ho le munizioni Le munizioni Oh cazzo Oh cazzo No 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 Veloce Veloce E' dietro di me Aia 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 Dove cazzo sono Che è sta roba Chiave scorpione Eee Ok 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 bastardo Ok figlio di puttana C'era una roba là C'era una roba Vieni vieni Qui bello Qui bello Cos'è Grimaldello No Non è il momento Corri 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 Ok Ok con calma Ho il coltello Ho il coltello Magari il coltello serve Ok pezzo di merda Vieni qua Via 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 Oh mio dio Che brutta situazione Mi sono curato Però cazzo Sono bravo o no Ma qua è aperto Ti prego dammi Dammi delle munizioni Che sconduro Cura Cos'ho preso Ho preso delle munizioni Yes Credo di aver preso delle munizioni Dammi la pistola Minchia 12 munizioni Ok bastardo Vieni qua Ma stai con sta testa Ferma Per dio Oh Boom baby Ce l'ho fatta Ho vinto Ho vinto Abbiamo anche la mappa del semi interrato Buono Mamma mia ragazzi Che cazzo di ha Che è stato? Ok Ok Chiave dello scorpione Mia Buono Buono Abbiamo anche un grimaldello Il grimaldello potrebbe servirmi per il Per il cassetto che ho trovato prima Che dite? Torno andrei va? Così salvo a E lo sapevo io che finiva così Orca troia Uh Questa porta si apre dall'altro lato No? Come è chiusa dall'altro lato Vabbè ma vaffanculo Ok con calma Con calma Con calma Si fa Si fa E' easy Non è la situazione migliore Ecco tutto qua Ho visto di peggio Buono Buono Ok ottimo E dentro c'è una cura Tutto qua Buono Direi che l'ho presa nel culo Mi aspettavo qualcosa Un oggetto chiave Invece no Buonasera Simo Leggi la foto Quale foto? Foto tesoro Ho nascosto qualcosa di interessante qui Prova a trovarlo Che cos'è? Ah è dove c'è il cervo Mi sa No Beh ma c'ero già stato qua Cioè sicuramente Eh ma Aspetta Devo capire Non mi dice dove Beh devo trovare semplicemente un Eh come si chiama Un Un ragazzi Un cammino Devo trovare un cammino Ma non so E' possibile rompere Questa scatola? No We can't We can't Questa scatola qua invece? No? Buono Vabbè io vado allora eh Che è stato? Eh lo sapevo io Che finiva così Non ho Non ho abbastanza munizioni Per fare quello che devo fare Dov'è? Vieni o no? T'ho visto ciccio Dai Beh Vieni qua Pronna? Allora? Ehi Oh Cazzo 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 La cosa positiva di sti tizi È che sono molto più lenti Rispetto a A A Mister Martello Però Però Mi fa sprecare un botto di munizioni Oddio Meglio loro che vanno giù Piuttosto che uno stronzo che immortale Eh Che faccio? Sprego gli ultimi tre colpi Anzi quattro Perché probabilmente me ne servono quattro Per buttarlo giusto Stronzo Dove è andato? Ah ma spariscono proprio Ah ma spariscono E che figata Ok quindi semplicemente mi basta Basta nascondermi da qualche parte E loro se ne vanno Tutto torna Vedo Buono Ce l'ho dietro di me vero? Dio santo Basta Cazzo Avesse avuto il grimaldello ragazzi Dovevo aprire questa di cassa Magari dentro c'era qualcosa di più utile Tipo delle munizioni per dire Allora Seguendo la logica dell'appartamento Questo muro portante Forse qua sopra Piano di sopra c'è Ah no Qua 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 A posto Uh Steroidi E che fanno? Cioè lo Posso immaginare Non rinforza incredibilmente i muscoli E aumenta la salute massima L'effetto dura a tempo indeterminato Ah E usiamoli allora È un potenziamento Quindi adesso più vita La tua salute massima aumentata Buono Perfetto ragazzi Non ci facciamo mancare nulla Gli steroidi La violenza E abbiamo anche La chiave Del Corvo No? Abbiamo quella dello scorpione Devo tornare Andrei Non so se ho esplorato Tutta sta zona ragazzi Tutto il semi interrato Però Me ne voglio andare via Quindi addio E mai più Fancula Fancala Ora Ethan Flash a male La foto ora la puoi buttare Ah perché mi occupa spazio So che prima o poi Mi prenderò uno sbocco qua Io lo so Me lo sento ragazzi Ok Questo eravamo già Ma che cazzo Ma non hai proprio nulla da fare Non hai nulla da fare Non hai nulla da fare Va bene? Non ha un cazzo da fare Sto qua Niente Che due coglioni Grazie Shark Torna indietro Devi andare dove c'è la porta Con lo scorpione Ma ce ne sono anche di qua Li porti con lo scorpione Eh qua non c'è un cazzo C'era anche qua la porta con lo scorpione Credo Vediamo un po' Qua Porta con lo scorpione Salone d'ingresso Al piano di sopra ce n'è una Con anche una cassa Forse questo è uno shortcut Non è nulla di che Tra l'altro Qua non c'è un cazzo Porta dello scorpione Poi nella stanza della nonna Al secondo piano La porta con lo scorpione Mi porta alla stanza della nonna Ragazzi E che fai? Ti privi di una nonna? Direi di no La testa del cane L'hai lasciata dentro La sala di dissezione Ah c'era la testa del cane? Eh già è vero Me l'aveva detto prima La nota Vabbè intanto Ragazzi esploriamo Va Però no Non ho più paura di un cazzo E qui? Pare di no Il salone d'ingresso Dovrebbe esserci il fucile No quello lo so Quello non è un problema Allora Stanza della nonna È qua in alto Credo Let's see Scorpione No questo è ragno No mi sta Mi sa che mi sto No no è giusta Ok È giusto Ah quindi la nonna Stava all'ultimo piano Ma non è un po' Una stronzata Mettere la nonna in alto Come torna giù? Che due coglioni Portarla su e giù Ma lasciatela fuori Cazzo A stagionare Eccola qua Stanza dello scorpione E c'è un fucile Cazzo 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 Ehi No 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 Shhh Shhh No Adesso si arranicchia Arranicchia Si arranicchia Si rilassa Si fuma uno spinello E si masturba Davanti a me Tutto questo solo perché Sei immortale Bastardo Perché altrimenti Ti menavo con Non so Un appendiabiti Non mi può vedere Perché mi segna la testa Della mucca? C'è un'interazione Come cazzo M'hai visto? Dai Ma non ci credo Ma vaffanculo Che due coglioni Mo' mezz'ora Eh guarda Figa La porta era lì Ma che presa per il culo E ci risiamo Credo di aver vinto Questo effetto sfocatura Però mi sta dando fastidio All'anima Sì Ho un'interazione Con la testa ragazzi Con quella testa lì E dentro c'è un fucile Ragazzi è per questo Che voglio entrare Chiudi la cazzo Di porta Oh sì Come fucile rotto Ah lo posso sostituire Con quello Ok Ne ho abbastanza Di inseguire questi pezzi Di merda per il giardino Nascondi le sculture A forma di testa di cane Così i nostri ospiti Non potranno più uscire di casa Ho già pensato dove L'orologio a pendolo Nel salotto Ah Eh già Quello l'ho già trovato È vero Il libro nell'area Nell'area ricreativa E la stanza Della dissezione Nel semi interrato Verà Una famiglia del tutto Che schifo Che schifo No No dio mio No Munizioni pistola Sono proprio un pro Non hai abbastanza spazio In questo gi- Ah cazzo Perché occupa due Non posso buttarla giù La- Yes Ci stendiamo sta merda Prendiamo questo Eh Ho della polvere da sparo Sì Voilà 16 colpi Ottimo Qua chiudiamo sta porta Se no ci sgama E vediamo un po' Cosa altro c'è qua dentro Gentile signora Baker Come si sento ultimamente È passato ormai molto tempo Dal suo ultimo controllo Le scrivo per informarla Che ho appena terminato Di esaminare le sue lastre Le ombre presenti Nell'area del cranio Ah proprio tumore Celebrale Sembrano essere colonie fungine Buono Quasi sicuramente correlate Al cordyceps di the last of us Le allucinazioni E i suoni Di cui ha parlato Potrebbero dipendere Da queste formazioni Perfetto Se la sintomatologia Non so l'è Dalla è descritta E causata da un parassita funghino Questo deve essere rimosso immediatamente Non intendo allarmarla Ma sono preoccupato seriamente Per la sua salute L'ambito a recarsi in ospedale Non appena avrà letto questa lettera In quanto suo medico Le consiglio vivamente Di effettuare ulteriori accertamenti Ma c'ha 200 anni Lasciala morire coi funghi Cazzo Porco due Questo attaccamento alla vita Non lo capirò mai Cartuscia per i fucile Buona Buona Ma non si può fare un cazzo Come cazzo mi hai visto? Non puoi entrare Puoi entrare? Come ha fatto a vedermi? Siamo in una situazione di stallo Si chiama stallo alla messicana E mo? E là? Non mi vede più Buono Vabbè aspettiamo che se ne vada ragazzi Armadio Dino Altro oggetto Dove? Scusa Eh no Non posso Posso solo aprire e chiudere le ante L'ho già aperto Vaci triggerato? Mi vedi? Mi vedi? Mi vede? Adesso è dietro di me Ma se gli sparo da qua Cioè Oddio Tanto è immortale È inutile Se fosse lui Andrei in giro Dicendo di essere Cristo E inizierei a menare tutti Con quel randello Sono il messia Bastardo Ma non posso strisciare in sto gioco Sarebbe interessante Chissà se In Resident Evil Sto arrivando Porco due Ma vattene via Santo cielo Niente Devo corrermela ragazzi Perché se andiamo avanti così Ci mettiamo 30 anni Ok è andato a destra Buono Io devo scendere giù adesso Devo tornare giù dove c'era il fucile La strada è di qua Mi ha visto? Ma come cazzo ho fatto a vedermi? Era dall'altra parte Dai Evidentemente sono troppo sexy Attenzione ragazzi Ci siamo Ma sono cazzi tuoi Bastardo Ok Fucile rotto Bumbeli Mi vedi ancora? Dai dillo Ti vedi? Faccio saltare le cervelle Quanto vero iddio Beh ragazzi Con questo mi sento abbastanza Abbastanza OP Uh Liquido giallo Ma posso unire liquido giallo? No Ok vediamo Cerchiamo di non sprecare però Le munizioni ragazzi Perché mi sento di Di dire che è fatta Perché la prenderei abbastanza In DAES Quindi facciamo un'altra roba Andiamo a salvare di nuovo Shoot me Shoot me Cos'era? Ah si Montagne Arclight 7 giuglio 1991 Andiamo all'altra Anzi andiamo alla safe zone Che sia di qua va Ah no ma qua c'è un'altra stanza Merda Ma si dai Fanculo Salve Oh Cazzo Ah ma siamo tornati qua? E' uno shortcut Ma è E' la zona di prima Vero? Sì E' dove c'è la safe E' uno shortcut Ok perfetto Buono Meglio Ottimo ragazzi Buono Buono a sapersi Souls like Ok ok Allora Con calma Cerchiamo di liberarci un po' L'inventario Da cose che non ci servono Tipo Questa qua per ora Non ne trovo l'utilità Lo psicofarmaco Ragazzi Lo mettiamo via E' vabbè Il fucile ce lo teniamo Ora Anche via Avvia la via della videocassetta Che l'abbiamo già vista Perfetto A sto punto Analizziamo bene la mappa E capiamo dove E scopiamo Analizziamo la mappa E scopiamo ragazzi E cerchiamo di capire Dove dobbiamo andare Perché qua mi sa che abbiamo fatto Tutte quante le Porte Esatto Qua c'è da aprire una roba Credo Suppongo Stanza di controllo Stanza di controllo E' Al piano di sotto invece Stanza di controllo Di dissezioni Qua dovrebbe esserci Obitorio Stanza della caldaia Officina E devo cercare di aprire Ste robe ragazzi Secondo piano Abbiamo Aperto più o meno tutto Con la stanza del ragno Del ragno Del Dello scorpione Pare di si E niente Dobbiamo andare giù nel Nel semi interrato Ragazzi Ci tocca Segati in ogni stanza Attenzione Ciao Jack Bentornato Bestia Davide E' lei Non mi ricordo Ma puoi unire Il liquido giallo Con le pillole Per fare gli steroidi Veramente Andiamo un po' Beh se è così Tanta roba Beh allora Non sono inutili Ragazzi Non riesco a chiudere Più sta roba Ok Non sono mica inutili E sbaglio Tasto No Non si può Eh infatti Mi sembrava strano Ragazzi Se gli steroidi Servono per potenziarsi Devono avere Una certa rarità Anche senso Eh ci pigna Grande polpetta Bravo bestia Katia Puoi mettere polpetta Nel contest di For Honor Per pc Ragazzi Utilizzate i punti canale Perché a breve Vi regaliamo Vi faremo partecipare Al contest Per Cyberpunk 2077 Oltre ad avervi regalato The Last of Us Parte 2 Il nostro Born Naked Se l'ha giudicato Voi potrete giudicarvi Anche Cyberpunk 2077 Quindi iniziate a risparmiare I punti Venite live Collezionate i punti canale Ragazzi Perché poi vi mettiamo in lista E Quando Una settimana prima Dell'uscita del gioco Ve lo regaleremo Tra un po' Spammeremo tutto Anche su Instagram Vi diremo tutto per bene All'organizzazione Eccetera eccetera Va bene bestiacci Si va Ora Sono curioso di sapere Se questo affare Quando spara E' efficace Non so però Se testarlo Perché c'ho due colpi Faccio 26 colpi Di quest'arma Ragazzi Sono già 24 No no Crash Ne servono semplicemente 10 Abbiamo abbassato il numero Dei partecipanti al contest Perché Dal contest Scusate Al torneo Perché non riusciamo ad arrivare a 24 Ci serviva soltanto polpetta Guarda Adesso che c'è polpetta E' fatta Abbiamo vinto Ma qua ci sono stato Sì Di là ho aperto Di qua non ci sono stato Forse Esatto Sì Pare proprio una zona Minchia Qua è una zona mortale Salve Salve Che fai? Mi prendi in giro? Ah sta la vista baby Oh fluido Buono Allora Sei sicuro? Oh merda Ah sta la vista baby Bene Non ho più munizioni Siamo appunto al capo Questo è per me Thank you Voilà Tre cure Qui si può aprire stavolta Ah Dio Dio Ah Ah Che infarto di merda Porca troia Mi ha fissato lì Scuro Da dietro Vaffanculo Porca troia Ragazzi Non so se l'avete visto Voi ce l'avevo proprio lì Era sul bordo Vi giuro ragazzi Era sul bordo angolo Era messo così Che mi guardava Ha fatto prendere un infarto Porca puttana Come riprova No Che cazzo fai Dio santo Che infarto Che cazzo è Che cazzo è Oddio Sono due Vaffanculo Cazzo 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 Ma sono tre Non sono due Ma quanti cazzo sono Vabbè ragazzi Ho 26 colpi 19 colpi Ce la posso fare Pronto Tutto bene Ma spariscono Perché spariscono Ragazzi Non vale sta roba Che è stato Ok 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 Sono tre Bello Sto Sto Vomitino Qui No Allora È un evento triggerato Questi continuano a cicciare fuori Esatto Non posso farci un cazzo Devo per forza ucciderli Mi pare ovvio Allora Aspettiamo che escano fuori Uno lo devo segare Ragazzi Lo devo segare Now Vedo la testolina Bene Gli ho attirati Che bello Ma che bella vita Johnny Eh però Prendiamoli No Ma mo Ma porca puttana Ma non è possibile Che un corpo Di proiettile Si Figli di Ecco cosa fanno Ah Ho capito Quindi quando esco dalla stanza Se ne vanno Non devo uscire ragazzi Devo per forza ucciderli qua dentro O devo scappare Oh shit Salve Figa non muoiono mai Ragazzi ma cos'è Ma cos'è Non è possibile Non è Diventato una canzone Di Nightmare Before Christmas Carica Sta cazzo di arma Ma muori Oddio Oh uno è andato Bene Non ho più munizioni E mo' ce ne sono due Come cazzo faccio? Ce la puoi fare ragazzo Credo in te Ho il coltello? Ti faccio male eh? Oh munizioni per fucile Yes 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 Cazzo si Cazzo si Carica 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 Ok Vieni dai No no Ma porca puttana Porca puttana Porca puttana Avrei dovuto shottarlo E non l'ho fatto Dammi altre munizioni Ti prego Lo so che mi devi dare altre munizioni Io lo so Credo in te Cazzo 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 Ci saranno altre munizioni Da qualche parte no? Eh no Vabbè ragazzi È da solo Che me frega Veloce Veloce Via 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 Ok buono buono Con calma Con calma Vediamo se c'è altro qua Giusto per dare un occhio Salve salve Però che pa No No Ma perché adesso ce n'è un altro Ragazzi Non è giusto Grazie Axe Benvenuto Bestia di metallo nelle vene Oddio Come non impugnare un patata Devo trovare delle munizioni Ragazzi Eh la porta È sbloccata Come l'ho sbloccata Come ho fatto a sbloccarla Perché l'avrei sbloccata Scusami Ah perché sono dall'altro lato Ok E qua torniamo su Che situazione di merda Ok ragazzi Devo cercare di capire come fare Devo cercare di risolverla E non vedo Non la vedo bene Ve lo dico Non la vedo per niente bene Che cazzo di suoni Ok con calma Cos'è questo? Fluido chimico forte Può essere combinato con altri oggetti Per cambiare la proprietà più forte Del fluido chimico normale Come scusami Posso combinarlo con cosa? Con la soluzione medica? No Con la pistola? No Con la chiave dello scorpione? No Col fuci? No Col coltè? Non posso fare un cazzo Qua si può passare Boom baby Yes Not bad Not bad Dove cazzo voglio andare? Ecco questa Questa È un'ottima È un'ottima notizia Voilà Psicofarmaci Eh già Mi serve la chiave del serpente Allora Proviamo a vedere se a sto punto posso combinare questo con questo No Fancola Servono per fare i colpi del fucile Ah Alla prossima Jackie Fluido rosso più polvere e erba Uguale proiettile e medicina forte Ok va bene L'erba non ce l'ho purtroppo Shit Vabbè grazie ragazzi Per il coso per l'upgrade Ok ragazzi La cosa positiva è che sono armato E anche sexy Quindi teoricamente dovrei riuscire a non farmi più lo scherzo di prima Bastardo Bastardo Ok ottimo Ho visto il riflesso di Katia dall'altra parte Stavo per svenire Qua si va avanti Ok la strada L'unica strada che devo fare ragazzi è questa Ho due colpi Loro sono in due E devo giustarmela per bene Quindi a colpo sicuro in testa Altrimenti non va un cazzo Ce la posso fare Raga Porca torna Porca torna Porca torna Porca torna Porca torna A colpo sicuro eh Boom baby No 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 Non ha funzionato Non ha funzionato E uno è andato Hai visto? Hai visto cosa ha fatto tuo cugino? Esatto stronzoni Eh però ce n'è sempre uno Come cazzo faccio? Sto morendo di caldo ragazzi Voi non avete idea del caldo Che sto provando in questo momento Ma qua non c'è nulla Che io possa fare Posso andare qua a sinistra Speriamo sia aperto Buono Bene Dai Si Cosa mi serve Per aprire quella cazzo Mi serve un grimaldello E dove lo trovo un grimaldello A quest'ora di notte Ma posso passare di qua? No Devo trovare un grimaldello ragazzi Ecco Questo potrebbe essere un problema Effettivamente Dove cazzo lo trovo un grimaldello ragazzi? Non lo troverò mai Qua ci sono già stato Iniziamo a esplorare di là Forse questa porta qui Che è quella che Esatto L'officina Eh ma come faccio ad aprire l'officina? Vai alla testa di cane Ok Come Dov'è? Cioè Come faccio? Dov'è la testa di cane I micchi? Alla prossima Nobile L'officina Pensaci dopo? Ok Era nell'inceneritore? Eh Non mi ricordo più Perché l'avevamo letto Ma non mi ricordo Era Andiamo all'inceneritore Allora Stanza Inceneritore Qua Siete sicuri di questo? Ah perché il tizio Cicciato fuori È vero Io non l'ho presa Ah Chiave Stanza di sezione È vero perché Cicciato fuori Il nemico Io ho spaventato Sono scappato via Non l'ho preso Giusto? Ha senso Ok buono Quindi adesso abbiamo la chiave Sulla targa c'è scritto Stanza di sezione Stanza di sezione Stanza di sezione È quella dove c'è la caldaia Esatto Buono Bene Dai E sapori di sangue Quello che è in bocca Ora Devo essere veloce Con le dita Al cinema Sei un fifone Lo sai E tu sei una puttana Per la precisione La mia puttana Va bene Tu dimmi un po' Arrivato lui Allora Tiriamoli di qua Vediamo se Milchiorre Ma mi ha sgamato? No Non mi hanno visto Buono Psst Ehi Mi ha visto Ce n'è un altro Vero? Veloce 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 Apri 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 E muoviti Dio Dio Cristo Ah Grazie E adesso me le dai le cartucce per il fucile Vaffanculo Che è sta roba? Testa di cane? Yes No 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 Eccala là Come? Attenzione Ma quello è il poliziotto di prima E lo farò a soffrire Va bene E tuo amico Mi aiuteranno Ah bene Il poliziotto ragazzi sta mutando Perfetto Buono Perfetto 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 Sono nella cacca Ciao spirit Corri 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 Corro 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 adesso C'è Nemesis Cheat Posso mirare? Sì Ok Sapete che questo è un fucile italiano L'M220 Ci sono altre munizioni per il fucile Cazzo Non vorrei che sia una boss fight Mi puzza di boss fight Sta roba Allora abbiamo detto che posso unirli con No Cos'è che tu potevo fare con l'erba? Per creare Ho sbagliato la soluzione medica Buono Dovevo unirli probabilmente con la roba gialla Sono un idiota Forte Questo è forte Buono Non vedo soluzioni ragazzi Sì Mi sa molto di boss fight Ma non era così prima Ma non era mai così prima No Non ti ringrazio Puoi continuare quanto vuoi Ok Qua c'è il tizio Buono Ma Dio santo Sì vabbè È ovvio che si rianima Stronzo Ok 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 Ho un sacco di piscio Ho tre sacche d'urina Nello zaino Ah Ah ma io pensavo ci fosse una qualche animazione Winch Benvenuto bestia Chester Hai il metallo nelle ve Ne sei mosso? Ti sei mosso? Pss Non posso colpirlo Ma siamo seri? Non posso Vabbè Peccato Bauni Baunini La radiolina si è pulitissima Non ho controllato Si muove Ma per quale cazzo di motivo Dovrei stare a tocchicciare un cadavere Scusami Che cazzo succede? Non ci sono abbastanza slot per questo oggetto Testa di cane Ah Ah Stavo facendo finta Di capire Ma perché mai? Rispetto per cadaveri Zero Vai a svuotare Te lo consiglio Eh anche secondo me C'ho l'inventario troppo pieno ragazzi Torniamo andrea va? Tanto qua dovrebbe esserci la safe Qua vicino Credo Non mi ricordo Non ne sono sicuro No devo tornare di qua Cazzo ma c'è il nemico Che due coglioni Ci sono i tizi di prima No Che palle Oh i boh Vabbè io corro ragazzi Eccolo là E' dietro di me Is this behind me? Yes Is this la fine di tutto? Yes Ok workshop Dov'è che era la safe qua? Qua non c'era la safe Devo uscire C'era però La scorciatoia Mi sta venendo un leggero mal di test Non mi ricordo dove Ma c'era la scorciatoia Forse era questa Voilà Buono Ok Salviamo Svuotiamo E via Allora Allora Via sta merda Poi Le sacche di urina Fuori Che ne ho Un casino Il cibo Il cibo I proiettili ovviamente me li tengo La chiave Non so se tenermela ragazzi Perché Il fatto è che Non so quante porte Ci siano dopo Delle porte scorpioni Mi sa che forse Sgammate tutte Non vorrei dire una stronzata Io non ne vedo più Bella domanda Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Fanculo Vedremo dopo La butto Ah ok Perfetto Allora le abbiamo trovate tutte Dai Ma buttarla no Semplicemente L'archivio Qua i fluidi Me li tengo Che possono sempre Essere utili A posto Direi che va bene così Direi che ci siamo Posso spostare Voilà A posto Fatemi salvare E andiamo E andiamo a morire Tieni la chiave La tengo o no? Vabbè sentite La tengo allora Dai Vabbè Ho tre slot Dai Potrebbe andare bene Tiene una sacca? Il fluido Quimio forte Lo puoi usare due volte Ah Ok Se lo posso usare due volte Magari posso lasciare giù Una pozione A sto punto Tu dici La soluzione medica Serve spazio Per non tenere niente Giusto Lo porti il prossimo Outlast Quale? Il 3? No non credo Bubolo Dipende Non mi fanno impazzire Preferisco di gran lunga Resident Evil Tanto mi sa che Ora che esce Resident Evil Probabilmente Cioè Ora che esce Outlast 3 Probabilmente sarà già uscito Resident Evil Village Quindi porterò di Resident Evil Village direttamente Allora Fammi una roba Va Via questo Teniamoci Un fluido Perché potrebbe effettivamente Servire Tanto abbiamo due cure La chiave Ce la teniamo E buona Facciamo La pozione forte Cura di più Ma la uso una volta Ah ma una volta Allora si usa La pozione forte La chiave Lasciala Che serve spazio Porco due Allora Fuori dai coglioni E a sto punto Mi rimetto La soluzione medica Così ne ho due A posto? Posso andare? E' fatta? A posto mamma? Posso andare? Vado eh Fica Non mi sento più la faccia Let's go Ci sarebbe la strada veloce Ma io sono un pirla Vabbè Tanto qua non spawna più nessuno Perciò Ecco Le ultime parole Famose Oh mio dio ragazzi Corri, 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 corri Ho vinto Corri, 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 corri dietro di me No, qua non dovrebbe passare lui, credo, non lo so, non mi ricordo Done, ok Ok, ok A posto, allora Non la vedo bene per niente Eccola là Era ovvio Grazie Gentilissimo Ah, e ho sprecato già un colpo Perché questo qua decido Ma come ho fatto a schivare un colpo di proiettile in fa Ah, forse ho capito a cosa servono i cadaveri No, 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 cazzo Allora Per l'amor di Dio, un po' di rispetto Ma schia... ho schiacciato F dieci volte Dov'è? Dov'è andato? Scusami Oh, oddio C'è una motosega lì Come faccio a prenderla? Colpi di fucile, ottimo Tutto bene? Sei arrabbiato? Aspetta un attimo Forse devo spingere i cadavri affinché Non sto capendo un cazzo Sta male? No Pensavo di doverlo spingere contro la roba Ma non credo Mi sa che deve tirare lui un colpo Deve rompere qua forse Per come sei fatto dentro Sai? Eh, ma tiralo il colpo però No, no Orco 2 Aspetta, eh Vieni, dai Ma che cazzo fai? Cretino Ma dammi un colpo Bravo Aia Non a me, al muro Tutto a posto? Aspetta, eh Fammi ragionare Quindi come facciamo? Allora Che boss fight di merda Motosega Come si fa? Oh Ma vaffanculo Aia Ma che cazzo di problemi hai? Oddio Che succede? Bene Ah, la prende lui la motosega Pensavo di doverla prendere io Posso prenderla io? No, no? Che cazzo ha preso? Porco 2 Beh, effettivamente Veloce Veloce Ok, stronzo Aia Ma porca Merda, 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 merda C'è il muro, c'è il muro, c'è il muro, c'è il muro Tu è buono lì, eh Arrivo, arrivo, arrivo Fammi attivare sta Ma che schifo Penso di averlo colpito Non ne sono sicuro Ma no, dai, ma ho preso Quando l'hitbox è fatta talmente bene Come cazzo hai fatto a prendermi? Sta vibrando il nonno Dati una calmata, ciccio Oh boy No, i cadaveri I miei amici Cazzo, 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 cazzo Sì Ah, posso farlo a fondo Ok Che sta facendo? Vieni qua, bastardo Dov'è andato? Dai Merda Un duelo di spade, incredibile Volevi, eh? No, 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 no Che idea del cacca, cacca No Ehi Ehi Calmo Bonnie Sta male? Vaffanculo Credo di non avere più pozioni No Ehi Ok Ok Funziona Sta funzionando Sta funzionando Perfetto Come riavvia il motore? Ma che cazzo, dai No, ma che presa per il culo, ragazzi Eccola là Io non ho più cure Non ho più cure Che cazzo Che cazzo Ok Ok Merda, 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 merda Vaffanculo Vaffanculo Dai, dai, dai Sì Boom, baby Ma muori No, 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 no No, ehi, ehi Che schifo Che schifo Cioè, quindi i proiettili non servono un cazzo Bella Questa citazione incredibile A A coso A Terminator Quindi fatemi capire Ah, ma adesso ho proprio la motosega come arma Questa è una cosa figa Perciò I proiettili non servono un cazzo Servono una motosega Buono Mi pare giusto Beh, ho vinto For Honor Sì, più o meno Hai una spia gialla sulla motosega Quando lampeggia sta per ingolfarsi Grazie, gargantua Porca troia Eh, però adesso sono nella merda Perché non ho cure Però almeno abbiamo la testa La testa del cane Ah Ma dai Ma mi prendi per il culo Sto gioco una merda Ragazzi Dai, ammettiamolo Sto gioco una merda Cioè, ma è proprio rotta questa cosa Bastava spostare la barella La sotto e tornavamo su da lì No, abbiamo dovuto spaccare Completamente un'arma Che era un'arma Più che potente Che stronzata E mo? Posso andare a vedere il Adesso livella la destrezza Potrei andare a vedere il poliziotto Ma sono sicuro che il poliziotto sia ancora vivo E io non ho abbastanza vita per Per giostrarmela No, pare non No, pare in un limbo Di morte Perpetua Buono Ora, mi piacerebbe salvare Perché sono veramente messo nella merda Devi scendere le scale Ah già, Ascald È vero C'erano delle scale lì Bravo Grazie che me l'hai detto Probabilmente ci sarà anche La Queste scale qua Esatto, esatto Ah, devo tornare su Giro dall'altra parte Probabilmente magari ci sarà anche una Una save Speriamo Stiamo arrivando Buono Ma che bel bordello Eh ma Sta porta qua Non puoi forzarla Questa non è una porta No Torna dove hai preso la testa E quindi? Sul tavolo c'era qualcosa? Sul tavolo? Qua dici? La cosa La testa l'ho presa qua Non c'è nessun tavolo Era lì sotto Qua non vedo un cazzo Provo a scendere giù di nuovo Magari giù Ah qua Polvere da sparo Buono, grande Voilà Toh, dieci colpi Meglio di niente Buono, grazie amico mio Ok, il problema però Sono comunque nella merda ragazzi Ce la farò? No? Andiamo Adesso alla volta Sto morendo di caldo Ragazzi Non avete idea C'è il condizionato C'è il pinguino Che sta a 500 km da me Sto pezzando male Non ce la faccio più Ma è sicuro che quello Non si anima All'improvviso Non mi attacca Ok, qua mi sa che me la corro Perché spunteranno di nuovo i nemici No? Strano Ma sì Ma sì che spunteranno Figurati se non spunteranno Mi serve la safe zone Mi serve la safe zone Mi serve la safe zone adesso Di qua? Era di qua? Sì Dai, 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 dai Ok, abbiamo tutte le teste di cane Quindi adesso si aprirà la porta Noi potremmo uscire di qua, no? Cioè abbiamo finito il gioco È fatta Ho vinto No, 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 no Col cazzo Col cazzo Nonna Perché la nonna canticchia? Perché la nonna è felice? Ok, vediamo se ho qualcosa Per potenziarmi No Buono Ok Non posso mirare la nonna Guardate Non mi fa mirare la nonna Che sia un NPC Merda questa mi attacca Non voglio vedere 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 Sento, ma non vorrei dire una cosa e azzeccarci e spoilerarmi completamente il gioco. Quindi sto zitto e faccio finta di niente. Ma mi ricorda qualcuno quella lì? A vederla da vicino così sotto la luce mi ricorda qualcuno. Ah, ma c'è una porta qua. Che abbiamo già aperto. Buono, bene. Non ti fa niente la nonna? Sì, cazzo non ti fa niente la nonna. De pisello. Ok. Boom. E siamo fuori. Non so se sia una cosa positiva o negativa. Da sentire dai suoni mi pare negativa. Vabbè, esploriamo ragazzi. Qua dovrebbe esserci l'altra... la mamma, se non erro. La suocera. La cara vecchia suocera. Non so se usare adesso la... Magari se troviamo una roba gialla mi conviene di più. Volvere da sparo. Eh, 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 eh. Magari troviamo un po' di piscio qua in giro. Bloodborne intensify. Chi le ricorda buon uomo. Non dico niente. Qua avevamo visto la mamma con la lanterna. Ma... Ah, ma di qua si può passare. Eh. Non so se sia intelligente andare dal nemico. Ma, ehi. Chi se ne frega. Tanto ormai è peggio di così. No, sacca di piscio. Certamente quello che mi serviva. Questo. Con questo. Et voilà. Boom! Come nuovo. Ah, c'è una porta lì. Che cazzo è sta cosa? Integratori. Che diavolo è? Serve forse una chiave magnetica? Serve un oggetto da usare. Eh, mi sa di sì, eh. Questi però sono integratori. Pinole che influenzano il sistema nervoso. Non possono essere usate da sole. Devi prima trasformarle in medicine. Ah. Questi sono diversi. Non sono psicofarmaci. Qua abbiamo una strada? E' chiusa dall'altro lato, ti pareva. Buono, bene, dai. Era di fianco al capanno quando sei uscito che ti fissava la seconda run. L'avevo rontato alla prima, no. Ti godrai meglio il gioco e anche noi. Va bene, Alf. Infatti non sto dicendo nulla per questo, ragazzi. Perché ho paura che se c'è zecco vi rovino completamente il gioco. Ho fatto una mini live su e il tucker. Su e il tucker, va bene. Due chiavi servono. Ok, grazie, Michi. Qua? Ah. Salve. Ah, è una safe. C'è un reggiseno qua. Però... Sarà il reggiseno di mia? Non credo. Non credo proprio. Allora, a questo punto vediamo una roba. Prendiamoci un fluido. Uniamo il fluido alla polvere da sparo e uniamo questo a questo. Si può fare? No. Fangula. Allora, rimettiamo via questo. E via questo. Che cazzo? Pistola rotta? Perché? Perché mai una pistola rotta? Telefono? Vediamo se magari stavolta mia mi dice qualcosa. No. E' vero, usale. Prova fluido più integratori. Proviamo. Allora, fluido, mi hai detto. Più integratori. Si può? Ah, mi dà gli psicostimolanti. Buono. Ho sprecato un fluido. Diciamoci la verità, ragazzi. Sti psicostimolanti... Non li ho ancora provati, ma non mi dice niente, francamente. Cioè, mi sa molto di stronzata. Qua cosa abbiamo? Qua c'è un'altra cassetta da aprire. Come mai pulito sto frigorifero? Strano. Mi sento sempre più strana. Presto diventerò come mamma e papà. È colpa di lei. Forse dovrei fuggire. No, non posso. Se lei lo scopre, sarebbe la fine per me. Sapete che è impossibile veramente che sia al posto di Mia? No. Quella donna che ha portato qui, Mia, sa qualcosa. Se solo avessi il siero, potrei curarmi. Devo scoprire di più. Che cazzo è che abitava qua? E' troppo tardi per loro. Buono, bene. Un'altra moneta. Ah! Metto le monete qua dentro. Ne servono nove. Io ne ho tre. Sono pezzi di... Ah, sono pezzi di arma. Allora, posso scegliere se lo stimolante... Steroidi. Aumentano salute massima. Stabilizzatore aumenta la velocità di ricarica. Se no... Arma nuova. Rinculo esagerato e grande potere d'arresto. Beh, è ovvio che scelgo l'arma, ragazzi. Col cazzo che prego gli steroidi. Perdonatemi. Fangulo. Dammi ste tre monete. Ne ho quattro per ora. Però attenzione, però, perché potrei prendermi gli steroidi, eh. Hmm. Bella domanda. No, lo so, Kerbius. L'avevo letto prima. One shot? Un venom? Eh, cazzo. Ebbè, però, frenesi, iniziavo a buttarle sulla pistola, capito? Iniziavo a risparmiare per la pistola. Ma sì, ragazzi, che se ne frega. Figa, uno alla volta me lo deve fare. Buono. Cioè, ragazzi, vi rendete conto quanto sia ridicolo quello che sta succedendo? Basterebbe prendere la gabbia, sbatterla molto forte per terra e si aprirebbe. E invece no. Buono, me ne mancano cinque, ed è mio. Ricordiamocelo. Qua non ho nessuna cassetta. Buono. Ah, cipigna. Uibo. Vabbè, salviamo, andiamo avanti. Ma reggiseno... Ah, magari è di Zoe. Che cazzo è Zoe, la mamma? Io non mi ricordo i nomi, ragazzi. Vabbè, andiamocene, va. Fuori dalle palle. Sul cesso c'è qualcosa? No. A parte la merda? No. Ma va che eleganza? Le sigarette vicino al batter, giustamente. Tocco di classe. Fuori dalle palle. E te pareva. Ti pareva che suonava il telefono. Sì, ce l'ho fatta. Non possiamo essere arrivato così lontano. Hai visto? Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stami a sentire. Di che? Io e la mia famiglia. Siamo tutti contaminati. Non l'avevo capito. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il siero. Dovrebbe spellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Buono. Bene. Quindi dov'è? Se sapessi dov'è l'avrei già preso da molto tempo. Attenzione, accondiscendente. Ho detto che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salvero mia e ce ne andremo, no? Che palla che c'è la voce di Naruto, Cristo Dio. La vecchia casa è alla palude. Non puoi sbagliare. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Sua madre... Sta attento. Ti stanno cercando. Mio Dio. Ah, se usi gli psicofarmaci puoi vedere le monete molto più easy. Suona il telefono. Uè, zoccola. E Ted Mosby, cretino. Ah, anche vero. Eppure Ted Mosby. Vabbè, due perdenti, ragazzi. Come la vai a mettere questo doppiatore doppia dei coglioni? Diciamoci la verità. Ah, la moglie di Ted Mosby è morta. Spoiler. Giusto per rovinarvi qualcosa che non è bello, come A Womet Your Mother. Andiamo avanti. Sembra la voce di Ted Mosby. Avesse la voce di Joel, sai che sboro. La voce originale o quella italiana? Non ho mai sentito la voce italiana di Joel, ragazzi. Non ho sempre giocato in inglese. Quindi non... Dovrei, dovrei provare. Vabbè, non quando lo porto in live, però. Mi piace in inglese, ragazzi. Non posso farci un cazzo. C'è dietro un lavoro di recitazione assurdo. Ah, qua siamo al ricordo. Dov'era prima. Dov'è la rinazina, per Dio? Se è una merda, lo sto guardando. Ma non è vero. Dio buono. Hai rovinato tutto. Tanto non serve un cazzo la madre. È il doppiatore di rubber. Anche vero? Beh, lo ripeto. Tutti i perdenti. Soluzione. E insetti. Piattole, piaghe, schifo. Buono. Sembra il posto per me. Però. Che cazzo? Cioè, tu dimmi che predatore inutile. Puttana vacca. Sono grossini gli amici. Tutto bene? Affascinanti, però. Magari non sprechiamo le munizioni per questi stronzi. 8 febbraio 1802. Ah, era così la casa prima? Buono. Buono. Vediamo cosa c'è di qua. Cosa cazzo è quella roba lì? Lo vedremo la prossima volta. Dai. Andiamo a sinistra prima, va. Era una fatina? Mi consigliate il fallout? Sì, panda lancia. Di brutto. Il 3 più del 4, guarda. Ma un lanciafiamme per bruciare questi stronzi no, eh? Buono, bene. Buono, dai. Aia. Orca trota. Vabbè, allora, pensavo fosse chissà quale è il nemico. Ma posso sparare a questi stronzi? No. Li posso coltellare, però. Yeah. 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 Uh. Io tutta la live così faccio. Pronto? No, pare che mi attacchino solo se mi avvicino, in realtà. Sono abbastanza innocui. Eh, devo passare. Mi stimoli. Non c'è nulla. Arrivederci. Sto per crepare, ragazzi. Devo capire come superarli. Uh, guarda che figata. C'ho tutte le mani pieno di bozzoli. Di punture. Fatto bene. Non gli fai niente? Ho visto, Andrea. Anche tu sei allergico. Anche tu sei allergico? No, non sono allergico per l'arinazina. Sono assuefatto dall'arinazina perché ho il setto nasale completamente deviato per quando facevo pugilato. Quindi adesso me la devo spruzzare, se no non respiro un cazzo, ragazzi. Dovrò prima o poi farmi l'operazione. Cioè, ma quindi me la devo correre basta da sti stronzi? Vorrei... Grazie, gentilissimi. Arrivederci, eh. Buoni. Gentili. Alla prossima. Casino, però. Così non posso esplorare un cazzo questi stronzi che mi punzecchiano. Mi sto perdendo un botto di robe, ragazzi. Cos'è che ho trovato? Combustibile solido. Una sostanza solida e infiammabile che brucia velocemente e si è accesa. Non può essere utilizzata da solo. Buono. Spoiler. Lancia fiamme. Bene. Che schifo. Figa, sono messo malissimo di vita. Devo trovare qualcosa forse per innescare. Orca puttana. Che cazzo di sbocco? Qui c'è qua. Ah. Ok, erba. È abbastanza limitata sta zona, eh. Mi sa che finché non ho un modo per bruciare sti... Sti nemici la vedo... Mappa della vecchia casa. Ok. La vedo un po' dura la situazione. Qua ci siamo già stati. Esatto, qua è dove abbiamo messo il ragno. Ah, quindi mi serve il robo di legno. Cosa? Perché mai dovrei... Wow. Mi serve il robo di legno? Il ragno? Dove cazzo lo trovo? Un pugnatore a bruciatore. Boom, baby! Ah, no. Devo combinarlo per crearlo. Vaffanculo. Cos'è? Una safe zone questa? Sì, è una safe zone. È uno zaino questo. Hmm. Ora puoi portare più oggetti. Oh, buono, buono. Very good. Eh, il problema è che la statuetta di legno ce l'abbiamo... Ce l'abbiamo dall'altra parte. Posso riprendermela? Perché mi serve. Cazzo, non ci ho pensato che sarebbe potuto servirmi. Vabbè, ragazzi. La prossima volta torniamo e la riprendiamo. Mi devo ricordare di... Mi devo ricordare un po' di tutto, ragazzi. Spero di ricordarmelo, ragazzuoli. Lo avevi trovato lanciafiamme nel posto della casetta. Eh, sì, infatti, frenesi. No, che non sapevo cos'era, in realtà. Non è che avevo trovato lanciafiamme. Non sapevo che cazzo fosse. Non è quella? Sei sicuro, Vietnam? Perché mi ricordo che quella statua lì... Cioè, tu la giri e era sia un ragno che un'aquila. Girandolo tieni due figure diverse. Non vorrei che mi riserve di nuovo quella per riaprire la porta qua. Boh, vediamo. Vedremo, ragazzuoli. Direi che per adesso... Ne possiamo chiudere anche qua. Mi è pure salito un mal di testa bestiala fuori a tirare di quegli urli. Cazzo. Morco 2. Fuori da ripalle, va. Sei solo un pelato spoileratore. Non veramente, Tony, stavi guardando A One Matter Your Mother? Cioè, è uscito da dieci anni, A One Matter Your Mother. Grazie a te, Vittorio! Ti sta piacendo? Sì, Crash. Molto bello. Molto bello. Però, come al solito, come ogni Resident Evil, c'è quella cosa che mi dà fastidio, sia che le armi non servono un cazzo. Un po' si sente. Cioè, per dire, Resident Evil... Vabbè, faccio un esempio di merda. Resident Evil 6, che è uno che mi ha divertito di più, ma perché faceva schifo. Non è un Resident Evil, a dire il vero. Però, quello ambientato in Africa, non so se ve lo ricordate. Però, era due giocatori. Era divertentissimo giocarlo in cooperativa. Ed era un TPS. Cioè, non era un survival. Tu pidevi un botto di munizione e buttavi giù gli infetti. Però era divertente. Cioè, cazzo, era divertente. Perché lì sentivi che le tue pistole, le tue armi, uccidevano. Invece qua, come ogni Resident Evil, lo spari, 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 e non succede un cazzo. Alla prossima, Karma! Sì, Michi, ti voglio bene. Sei tranquillo. Sono solo stronzo. Sono un padre che non dice mai, bravo ragazzo. È bello sentirti un lare. Grazie, Belotti. Mai visto Resident Evil 6? Non schifo. O era il 5? Cazzo, non mi ricordo se era il 5 o il 6. Quello ambientato in Africa, ragazzi, dai. È il più disgustoso di tutti i Resident Evil. Non ti piace, Lilith, questo? Era il 5, infatti. Giocato in coop con un amico. Sì, giocato in coop è carino. Il drago serve a lei. È una questione di barba, giusto? Buonanotte, Alessandro. Ah, boy. Quello con i neri? Sì. Sì, è vero. Cazzo, Andrea, è molto bannabile. Perché effettivamente non facciamo altro che sparare a degli afroamericani. No, africani. Che afroamericani? Ma non era quello, Alf, mi sa. Quanto sarebbe bello un gioco come il primo Alone in the Dark. Direzione artistica suntuosa. Eh, Sanna, ci starebbe. Grazie a te, Vietnam. Ciao, bestia. Ah, ma stai andando? Vabbè, o era un ringraziamento a caso. Comunque grazie, amico mio. Poi pelati fino a dove vi lavate la faccia. Questa battuta è stata la prima battuta che mi hanno fatto quando mi hanno diagnosticato la malattia. Cioè, il dottore mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, mi dispiace. Sarei pelato per il resto della tua vita. Ah, grazie, Lili. Te va bene, gentilissime. Alla prossima, Arche. Il duo era troppo bello, soprattutto come lo avete portato voi. Ovvero male. Eh, ma quando gioca Andrea è qualità, ragazzi. Aspettate che vi sposto, va. Se no, sembra un rincoglionito che ha tre quali. Sembra un documentario. Conosci Star Citizen? L'ho adorato, l'ho visto da Power. Anch'io ho visto che Power lo stava portando. Infatti lì per lì ho detto, che cazzo? Power gioca altro a parte Fortnite. Se dai un occhio su stima, è il Tucker. Io l'ho detto, per scherzo. Buttaci un occhio. Dopo guarda, Zidermann. Gentilissima. Alla prossima, Alachris. Siamo costretti a lavarcela partendo dalla nuca. Beh, ovvio. Perché abbiamo una fronte lunghissima. Ma il 3 lo avete finito? Mi sono perso la live. No, Alf? Ci ha fatto talmente cagare Resident Evil 3 che abbiamo smesso di giocarlo. Sia me che lo guardavo, sia Andrea che lo giocava. E già che guardare Andrea giocare è un male per tutti gli amanti del genere. perché non sa giocare un cazzo. Ma in quel preciso istante, quando ci siamo incastrati in quel livello di merda con i ragni, poi lui l'ha fatto anche in modalità difficile. Quindi 300 miliardi di colpi per uccidere qualcuno. Trovi un proiettile solo ogni 7 ore di gioco. Cioè andiamo avanti. Una rotura di cazzo, ragazzi. Tu mi temi, non puoi essere come me. Ma certo, perché sono meglio. Ci stava giocando perché ha sbagliato a cliccare il link sul desktop. Ah, ok, Sanna. No, ma non andava Alf perché fa schifo, dai. Cioè se devo giocare... Allora, lì per lì abbiamo detto... Allora, se dobbiamo fare l'Horror Night e fare Resident Evil, a questo punto è sì che fare Resident Evil 3 e il remake, che è una merda, ragazzi. Soprattutto rispetto a Resident Evil 2, che è veramente un mezzo capolavoro, a questo punto giochiamo al 7, che io non l'ho mai giocato e ci sta. McDarren, gentilissimo, bestia. Le tue urla mi fanno scompisciare. A me brucia la gola ogni giorno di più. Andrea è come quelle persone che quando perdono dicono che non sanno i tasti perché hanno un'altra console. Che poi è vero, lo dice sempre. Farei mai un gioco in VR? L'abbiamo portato. Abbiamo giocato a... Non mi ricordo più, cosa che avevano giocato? Beat Saber, che c'era anche Katia. Volevamo portare uno che si chiama Slayer qualcosa, è possibile. Vabbè, comunque uno dove devi... È un simulatore medievale dove devi menarti con dei bot. Carino. Però il problema dei VR, ragazzi, è che io vomito a merda. Cioè, io... L'ultima volta che ho... Cioè... Da quando ho comprato il VR, ragazzi, l'ho comprato 5-6 mesetti fa, quando c'è stato il... il Break Friday, mi sono trovato davanti a dei titoli veramente fighi che portano innovazione. Perché il VR, ragazzi, la realtà virtuale è innovazione, non c'è un cazzo da fare. Però, secondo me, è ottimizzata col buco del culo. Cioè, non siamo ancora pronti, tecnologicamente parlando. E fa male. Fa male. L'unico gioco decente è Half-Life Alyx. Perché Half-Life Alyx è stato fatto apposta per il VR, ma proprio quando dico apposta, intendo proprio apposta. Ed è qualcosa di... di potente, di assolutamente divertente, figo, con una bella trama. È un'innovazione, la classica innovazione che porta Valve nei videogiochi che l'ha sempre fatto, con le sue esclusive PC. Mentre, il gioco che mi ha fatto stare è proprio di merda, che mi ha fatto dire basta, io non uso più sto cazzo di VR. È stato Broken Bones, credo, si chiamasse così, che è un gioco che doveva seguire le orme di Half-Life Alyx, dove tu puoi praticamente attingere alla fisica fatta benissimo. Puoi prendere un'asta di legno, spaccarla in più parti e ogni parte puoi utilizzarla per rompere altro, per ammazzare i nemici, eccetera, eccetera. Ma sono stato talmente male che ero tanto così da vomitare, ragazzi. Ero diventato verde, mi ero messo sul divano con le mani così perché ho giocato 5 minuti, appena muovevo la levetta, stavo malissimo. Io la motion sickness lo soffro tantissimo, ma veramente tanto. Addirittura che quando gioca Andrea e magari fa dei movimenti di camera, io sto guardando il suo schermo, addirittura che c'è lo schermo che è bello grande, quindi comunque fa anche già più effetto, ma se guardo un altro giocare e quello sta giocando un gioco frenetico e in più gioca come un cazzo di, non lo so, dalmata senza zampe, il risultato è che sbratto, cioè sto proprio male. Infatti con Andrea ogni volta che gioca qualche gioco in prima persona sto male perché lui muove sta cazzo di visuale tipo un... ritardato. Volevo dirti che dall'1 fino al 15 sarò in vacanza e non avrò internet, non c'è problema. Fabio, amico mio, noi ti aspetteremo. Alex è fantastico, sì, e pensate che non l'ho ancora finito, cioè ho soltanto... l'ho iniziato e basta, volevo portarlo sul canale ma non riesco... non riesco a capire come aggeggiarmi per portare il gioco in guerra su streaming, è un po' un casino. Tra un po' sì, Scar, tra un po' sì. Pensate di fare The Escapist 2 in co-op? Ma, magari un giorno. Allora, ragazzi, questa settimana portiamo Della Stofas mercoledì, Della Stofas parte 2, Della Stofas... poi lo portiamo anche venerdì, quindi mercoledì e venerdì facciamo Della Stofas parte 2. Poi domenica c'è una sorpresina per voi, venite live perché ci divertiamo, facciamo un podcastino. È una cosa nuova che stiamo tentando di fare, vediamo se vi possa piacere, facciamo un unboxing speciale, non vi diciamo niente, scoprirete e vedrete. E porteremo anche, come si chiama, Don't Starve Together, che è un gioco estivo, non c'è un cazzo da fare. Don't Starve Together è quel survival cooperativo bellissimo, che a me... io lo so, c'è sempre all'estate. Quindi, siccome è arrivato il caldo, ragazzi, ci sta a giocarsi a Don't Starve Together. Quindi con Andrea, ragazzi, inizieremo questa, se si può dire, avventura per sopravvivere in questo mondo molto bartoniano, molto bello. Di Pro Galactica, anche Reshin, vedremo un po' come cazzo è messo, come l'hanno aggiornato. E basta. Ma quella cicatrice sul braccio è da lì che sono nato. Don't Starve lo gioco dall'Alpha, cavolo. È bellissimo, ragazzi. Non importa, Chris, noi ti aspettiamo, vai tranquillo. Cercherò ogni piccolo momento per venire almeno a salutarvi. Va bene, bestiaccia, mi fa piacere. Domenica ti tagli la barba dopo 8 donazioni? Ma non sono mica cruaio. Dio Cristo. Non ci sarai, Giorgia? Cazzo. suppongo perché quella cicatrice rimarrà un segreto per sempre. No, ma in realtà ve l'ho già detto come è nata la leggenda, ragazzi. Conoscete i draghi di Komodo? Ecco. Ne avevo uno come animale domestico. Questo è un suo bacino. E mi ha provato a cantare death metal? No. Non so cantare, ragazzi. Faccio veramente schifo. Buonanotte, lurido. Sono stato io a fargliela. Lo trovo in un episodio di Resident Evil su YouTube. Frank, tra un po' li mette, li caricheremo tutti. Ecco, un'altra cosa che ci tenevo a dirla che l'avrebbe detto Andrei, ma vabbè, ve la dico io ve la ripeterà anche lui probabilmente quando sarà in live. D'ora in poi, ragazzi, molto probabilmente non editeremo più i video da mettere su YouTube. Ci porta via troppo tempo, quindi ricaricheremo letteralmente le live così come sono saltando la sala d'attesa. Le ricarichiamo e ve le buttiamo su YouTube. A quel punto, ragazzi, le potete guardare da lei. Ci dispiace. Poi, vabbè, ovviamente i video podcast, le nostre argomentazioni su qualcosa, quelle lo faremo sempre. Però per quanto riguarda il video editing, quello quello lo lasciamo da parte, ragazzi, perché è lungo, cioè ci toglie troppo tempo. Noi streamiamo ogni giorno e editare anche dei video è un delirio. E siamo pure in due, quindi non è una cosa molto facile. Oddio! Lasciate anche essa. Non avete voglia di fare un cazzo? Esatto, Tony. Guarda, è proprio vero. Siamo in 69. Le mao. Le outro d'autore ci saranno lo stesso, tranquilli. No, non ci saranno, ho deciso stasera, che dopo questa frase che mi ha dato veramente fastidio, non ci sarà più un outro d'autore. Soprattutto definirsi d'autore, incredibile. Te le edito io e le carico su Pornhub. Va bene, ci sta. Mi fai sempre pubblicità, Tony. Qual è il record di persone su una live? Ah, amiche, eravamo arrivati a 200 e passa col contest, non mi ricordo dove, però, tempi andati. Me lo consigli un drago di comodo domestico? E come no? Domenion che all'evento lo fate di sera? Sì, God, ma God, ma tu, sei su Discord? sei su Instagram? Sei ovunque? Cioè, gli orari te li abbiamo messi dappertutto. Ragazzi, gli orari delle live le trovate con tutta la programmazione, lo trovate su Instagram, iscrivetevi a Instagram, il nostro Instagram lo trovate sotto il link, sul nostro Discord se volete chattare con noi 24 ore su 24, tanto io non rispondo, mi trovate là su Discord e là trovate tutto, ragazzi, gli orari, quello che facciamo. Forlín, ciao bestia, il metallo nelle vene. Dica, Tony. Va bene, bestiacci? Ragazzuoli, dai, facciamo così, noi domani alle 16.30 con Andrea facciamo un bel partitozzo for honor, ci rilassiamo, ci rilassiamo, per modo di dire, e niente, poi in questa settimana ne vedremo delle belle, proprio questa settimana è tutta serata gold, solo titoli nuovi, non c'è nulla di già giocato se non, vabbè, di Pro Galactic, ma di Pro Galactic, ragazzi, alla fine, considerando che è uscito dall'Alfa e che finalmente ha raggiunto il suo apice massimo di epicità barbuta, quindi direi che sarà, si può definire gioco nuovo, dai, per modo di dire. Ragazzuoli, è stato un piacere, spero che vi siate divertiti, così come io mi sono divertito con voi, fate i bravi, fate i buoni, buonanotte, ci vediamo domani le 16.30 con For Honor, con Andrea, con la voce di Andrea, con la, lui ha due forme, forma digitale e forma fisica, la forma fisica è sopravvalutata, quella digitale invece devo dire che per 2 GB di spazio ci sta, ovviamente non include DLC e è buggato, però meglio di niente, ha dei server che non funzionano, vabbè ragazzuoli, fate i bravi, fate i buoni, come ho detto, alla prossima, va bene bestiacce? E facilmente hackerabile, esatto, 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 buonanotte bestie! Grazie! 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 Grazie!